Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Allora, dai, cosa? Questa è mia! Va bene, è mia! Questa è mia! Silenzio! Non sono tirante! Posso tirare quanto voglio! Ancora vai, tira, tira, tira! No! Pensa te, comunque, veramente, che coraggio! De che? Di cosa? Cioè, avere un cavo così lungo e comunque in live avere l'effetto del cavo tirato, secondo me ci vuole veramente... Oh, cavo, senti, fai l'effetto, fingi di essere tirato, per favore, perché sennò veramente ci faccio una brutta figura Da questa stanza, queste cose qua sono fuori di testa Oh! Ciao! Grazie, Rialdo, grazie, Giove, per favore, grazie a fare cinque velocità Porca banca! Oh, divertente, è venuta bene, eh! Carina! Una good gag! Vieni qua! Fammi aumentare... No! Non dirlo, Giove, di cinque centimetri, signor Sappelli Vediamo un po' se sei bravo Lascia perdere, Jack Purtroppo queste cose non posso farle, perché se no risolverei tanti problemi anche qui No, Giove, ti dovete impegnare su quello là No, Giove, ti pare che doveste accontentarti Ehi, questa è mia, questa qua è tua Te la faccio funzionare? Fai fretta, per favore, che qua il tempo scorre inesorabile E non è un problema Guarda Oh, funziona! Vai Grazie, grazie mille Sì, sì, qualche volta guardo le sue live Donò le roselline Ah, quello, non ho la violenza sulla donna? Ah, sì È il titolo, non ho la violenza sulla donna Sì, sì, ho capito Vuoi entrare in Hunch? Da un po' quando, non tiro fuori il palo Dai, oh, bel, quanti fallori su TikTok? 10.000 10.000 Su Instagram? Mille Ti piacciono i videogiochi? Oh, ok Ma perché sono? Oh, ok Eh no, ho avuto un attimo di turette, purtroppo Allora, no, lei no, Franco No, no Questa mi sembra esagerata, però Mia moglie l'ho, però, eh, Franco Guarda, io non faccio distinzione, eh, cioè Sì, ma lascia, perde, vorace Oh, la boss no, però, Franco Dai, ragazzi, andiamo in un locale a divertirci, con voglia di bere Eh, vabbè, questo è il mio locale C'è stato Eh? Marzo? No No Non lo so Ah? Eh? A Aprile Dai, Lisa, aprile Aprile Scusate l'accento Non succede un casino Il numero Numero Boom Brava, brava Ciao, Lisa Ciao Sono David Rubino Il più grande scopatore del 2024 Sono David Rubino No, io ti do una cosa Io sono David Rubino Il più grande scopatore del 2024 Io C'ho la statuetta C'ho la statuetta a casa che me l'ha fatta Twitch, ringrazio Ma come puoi esordire con una roba del genere? Allora Ah, per dire Io Allora Vez Io sono l'esercito in pari Capito? Passo volume, tanto Il tempo che si carica Allora, una delle tue canzoni, ti prego Come faceva la tua canzone? Aspetta un attimo È tutto un po' radosso Se non sono spacco Questo amore se non finirà Prima o poi? Capito? Eh, prima o poi Ah, quella merda Esattamente Ah, sì Dai, vai Ma non sono giusto E' finita Guardate, c'è il momento in cui Allora, qua l'ho spottata E poi si girata L'ho beccata nel momento in cui si è girata di colpo Aspetta Guardate cosa si gira di colpo Ciao Porco, qua l'ho sgamato È finita È finita È finita eh Grazie a Dolusco Grazie per la sua pregata Cazzita Lupo per i 26 Cazzita Vigame Per il Prime grazie mille è finito capito qua c'è il segno comunque erano manette reali guardate vi faccio vedere l'ultimo stante poi chiudiamo il primo capitolo queste sono tic tac normali ok si potrebbe ovviamente far scegliere una tic tac allo spettatore ne vado a prendere una sola e ora eh faccio una cosa difficile guardate mi avvicino ok no 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 ti prego ho visto un film iniziare così va bene la settimana scorsa non dirmi che esce dal naso no ti prego ti giuro che ho visto un film iniziale dall'occhio no non è vero no non è vero non è vero come cazzo fa è impossibile ma che cazzo dici oh grazie te lo dico questa vita sì mi faccio una gran sega e la mia tipa non le pago mai la spesa vado avanti non metto mai il maglione fake sono qua e io amo gli ebrei sì li ho sempre amati da sempre da quel giorno ti fatti a ridere non ce la faccio più ma per forza no 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 ci sta va bene mentre fumavo non non è ma perché non sei in grado no non sono sotto mezzo no lo state dicendo no non aveva anche il cognome Franco Zucchelli Zucchelli certo possiamo fare il personaggio il suo piccio quella è Lisa che ha donato grazie mille Lisa per l'abbonamento regalato grazie mille grazie mille poi ti ha salutato come faccio tutti grazie giro troncati grazie mille giro troncati grazie mille giro troncati grazie mille no vabbè stavo a ascoltare con una gag di 3.000 questa era stavo per fare la gag dell'anno però purtroppo mi sono dovuto fermare perché sono sotto ma mi piace questa cosa una volta che ho guardato la chat ho pure sbagliato sono disonesto non ho sbagliato c'entro di risposte David come hai fatto te ma ah là ma ok facciamo noi ah mamma mia io proprio percepisco che Coq verrà completamente sostituita cioè Coq veramente io mi auguro cioè aggrappati più che poi a tutte le promo che stai facendo perché ti terranno vivo sai cosa che sta parlando la sicurezza la sicurezza ma la sicurezza non vale un cazzo ma non siamo nella sicurezza siamo dipendenti nel locale grande poi cosa puoi ma ma chi è questo che è il mio fratello che è malato scusate sentite abbiate rispetto sono venuto qua per divertirmi quindi cercate di non farmi cazzare altrimenti altrimenti esistono diversi tipi di miscugli per esempio ci sono anche diverse battute che si possono fare per esempio gli indiani mescolano così ok gli indiani così gli italiani o i francesi così ok i colombiani colombiani così guarda beh questa è una bella questa è una bella Gilbert te l'hai capita? no Gilbert sei colombiano sì 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 per il colombiano no Gilbert non è colombiano Gilbert te bello non è colombiano